di funzioni a due variabili, un macro argomento che ho diviso a sua volta in tre punti anzitutto come determinare i punti stazionari e la loro natura il calcolo dell'ottimo vincolato seguendo il metodo della circonferenza che è un metodo particolare che vedremo a breve e infine il calcolo sempre dell'ottimo vincolato seguendo però il metodo della sostituzione vediamo quindi anzitutto che cosa sono le funzioni a due variabili le funzioni a due variabili sono delle leggi che ad ogni coppia di valore x y associano un unico valore z per introdurre lo studio delle funzioni a due variabili è necessario saper calcolare sapere che cosa sono le derivate parziali ora nel macro capitolo precedente abbiamo visto come calcolare le derivate vediamo ora che cosa sono le derivate parziali in realtà non cambia nulla nel metodo di calcolo se non una piccola precisazione allora le funzioni a due variabili sono funzioni scritte in questo modo quindi f di x virgola y uguale e poi viene esplicitata appunto la funzione che in questo caso è 2xy più 13x al cubo y al quadrato per quanto riguarda le funzioni a due variabili la derivata ovviamente può essere calcolata sia su x che su y e in questo modo avranno origine le cosiddette derivate parziali di fatti le derivate parziali non sono altro che delle derivate di una funzione tenendo però in considerazione un solo parametro e l'altro parametro invece sarà preso come una costante quindi vediamo ad esempio come calcolare la derivata prima di questa funzione secondo x però quindi mettendo x al pedice indichiamo che noi stiamo calcolando la derivata prima di questa funzione secondo x quindi è sufficiente tenere l'altra variabile come costante e quindi avremo 2y che moltiplica la derivata di x la derivata di x sappiamo che è 1 quindi 2y per 1 fa 2y allo stesso modo qua abbiamo 13x al cubo y alla seconda y alla seconda verrà preso come una costante avremo quindi la derivata di 13x al cubo che sarà quindi 13 per 3x al quadrato 13 per 3 fa 39 x al quadrato y al quadrato ovviamente viene tenuto come costante se invece dovessimo calcolare la derivata prima della stessa funzione rispetto ad y non faremo altro che calcolare appunto la derivata di questa funzione tenendo x come una costante quindi in questo caso abbiamo 2x che rimane costante per la derivata di y che è 1 quindi rimane 2x stessa cosa viene fatta per il 13x al cubo y al quadrato e verrà 26x al cubo y ho messo anche di fianco se volete fare una prova a calcolarvi la derivata seconda della stessa funzione sempre secondo x quindi sarà sufficiente fare la derivata di questa funzione ed otterremo questa qua invece per la derivata seconda sempre rispetto ad y della funzione sarà sufficiente fare la derivata di questa funzione ed otterremo questo risultato il gradiente che cos'è? il gradiente è un termine importante perché dovremmo utilizzarlo a breve il gradiente non è altro che l'insieme delle due derivate parziali di una funzione le due derivate prime quindi il gradiente di f di xy viene indicato con questo triangolino al contrario ed è uguale a abbiamo qui la derivata secondo x la derivata prima viene messa una virgola e poi successivamente la derivata prima secondo y questo è il gradiente della funzione f di xy vediamo passiamo quindi al primo punto come calcolare i punti stazionari in una funzione a due variabili per farlo è sufficiente seguire il seguente procedimento che ho diviso in quattro punti anzitutto andiamo a calcolare le derivate parziali successivamente calcoliamo i punti stazionari tramite il metodo del sistema che adesso vedremo poi calcoleremo le derivate seconde ed infine calcoleremo il determinante della matrice essiana non preoccupatevi se ancora non sapete che cos'è il determinante della matrice essiana o che cos'è la matrice essiana perché lo spiegherò appunto nei prossimi minuti vediamo di vedere come calcolare i punti stazionari con un esempio abbiamo questa funzione che è f di xy 2x più 2y meno 2 che moltiplica 2y meno 2x al quadrato meno 3x meno 2 qua non ho fatto altro che svolgere i calcoli quindi moltiplicare ogni membro della prima parentesi per i membri della seconda e se provate a farlo anche voi vedrete che vi verrà questa serie di dati a questo punto non ho fatto altro che sommare sommare e sottrarre i vari numeri e otterremo come risultato questa funzione qua successivamente abbiamo detto quindi dopo aver messo a posto la nostra funzione bisognerà calcolare le derivate parziali per il calcolo delle derivate parziali quindi non facciamo altro che calcolare la derivata prima della funzione rispetto ad x eccolo qua e la derivata prima della funzione rispetto ad y calcolando la derivata prima rispetto ad x otterremo questo risultato e calcolando invece la derivata prima rispetto ad y otterremo quest'altro risultato a questo punto passiamo al secondo punto del nostro ragionamento quindi calcoliamo i punti stazionari tramite il metodo del sistema il metodo del sistema che cos'è? non è altro che un sistema in cui vengono poste entrambe le derivate entrambe le derivate prime che ci siamo calcolati poco fa uguali a 0 ponendole a sistema non facciamo altro che sostituire quindi banalmente ricaviamo y da magari questa equazione e lo sostituiamo nella precedente ci calcoliamo x e troveremo i vari punti stazionari vi ho risparmiato tutti i calcoli che voi potete fare siete invitati a fare per vedere che vengano corretti i risultati saranno questi tre punti il punto A-2 è 2 il punto B0 è 1 e il punto C-1 è 1 ora questi tre punti sono tre punti stazionari però per andare a calcolare la loro natura è necessario passare al terzo punto quindi calcolare le derivate seconde difatti proprio grazie alle derivate seconde potremo successivamente capire se questi tre punti che ci siamo trovati sono punti di massimo o di minimo o di sella che poi vedremo che cosa sono quindi andiamo a calcolarci le derivate seconde della funzione le derivate seconde della funzione sono tre perché? perché noi siamo arrivati a questo punto che abbiamo due derivate prime rispetto ad x e rispetto ad y ora ne possiamo calcolarci anzitutto la derivata seconda sempre rispetto ad x quindi essenzialmente non facciamo altro che derivare questa prima derivata che ci siamo ottenuti per una seconda volta sempre rispetto ad x e troveremo quest'altra equazione poi avremo un'altra derivata che è quella secondo y della seconda derivata che abbiamo ottenuto quindi non faremo altro che derivare nuovamente questa funzione ed otterremo quest'altra ed infine avremo una terza equazione questa qua in mezzo che ho lasciato per ultima che cos'è? non è altro che sempre la derivata seconda della stessa funzione questa volta però partendo dalla derivata prima rispetto ad x e derivando per y quindi essenzialmente questa derivata seconda non è altro che la derivata di questa prima però rispetto ad y quindi in questo caso si aggiunge una y dopo la x in modo da indicare che prima questa funzione è stata derivata rispetto ad x poi successivamente rispetto ad y e così otterremo queste tre equazioni che sono le derivate seconde della funzione a questo punto passiamo passiamo all'ultimo dei quattro punti che è il calcolo del determinante della matrice essiana la matrice essiana che cos'è? non è altro che una matrice che vediamo qui e si segna solitamente con la lettera H maiuscola in cui allora anzitutto è una matrice quadrata una matrice quadrata di ordine 2 quindi ha quattro elementi in totale in cui gli elementi sono questi qua indicati quindi la derivata seconda della funzione rispetto a x la derivata seconda della funzione sempre rispetto ad y mentre agli altri due lati metteremo la derivata seconda della funzione ottenuta prima derivando secondo x e poi secondo y che dovremo ripetere anche nell'angolo in basso a sinistra questa è la matrice essiana di questa matrice essiana andremo a sostituire quindi queste derivate con le nostre derivate ovvero questa qua che è la derivata seconda sempre rispetto a y la metteremo qua in basso difatti 8,8 la derivata seconda prima rispetto a x e poi rispetto a y la metteremo sia qua che qua e ricordiamoci che l'abbiamo calcolata qua e di infine metteremo qua in alto la derivata seconda calcolata due volte rispetto ad x ok? a questo punto facciamo un po' di pulizia andremo a calcolarci il determinante di questa matrice come facciamo? con il metodo che vi ho esposto nel primo diciamo nella prima parte di questa video lezione quindi semplicemente facendo il prodotto incrociato di questi quattro membri quindi moltiplichiamo meno 12x più 2 meno 8y lo moltiplichiamo per 8 ok? il solito calcolo incrociato che abbiamo fatto all'inizio infatti vediamo 8 moltiplicato per questa cosa qua che è questa qua meno ok? il prodotto incrociato degli altri due quindi essenzialmente meno 4 meno 8x moltiplicato per meno 4 meno 8x a questo punto sarà sufficiente fare i calcoli quindi moltiplicare l'8 per tutti questi membri svolgere queste moltiplicazioni e cambiarle di segno e otterremo questo risultato qua cancelliamo questi due termini più 16 e meno 16 che si annullano a vicenda e otterremo questo risultato meno 160x meno 64y meno 64x al quadrato ancora una volta vi invito a svolgere i calcoli per prendere appunto mano con questa metodologia ora vi ho messo qui uno schema per capire finalmente quei tre punti che ci siamo trovati prima A, B e C che punti sono allora se il determinante di questa matrice è minore di 0 ok? abbiamo dei punti di sella se il determinante di questa matrice è uguale a 0 avremo un caso dubbio che non possiamo sapere almeno con gli strumenti che abbiamo a disposizione se è un punto di sella un punto di massimo oppure un punto di minimo se invece abbiamo il determinante della matrice che è maggiore di 0 ci possono essere due casi il caso in cui la derivata seconda rispetto a x derivata due volte quindi è minore di 0 allora avremo un massimo relativo se invece la derivata seconda sempre rispetto ad x di quella funzione è maggiore di 0 allora avremo un punto di minimo relativo come facciamo a calcolarci questo? in realtà è molto semplice non resta che sostituire all'interno di questa equazione qua che ci siamo trovati che non è altro che è il determinante della matrice essiana i tre punti che abbiamo trovato in precedenza quindi partiamo ad esempio magari dal punto B ok di coordinate 0,1 andiamo a sostituire alla x 0 e alla y 1 sostituendo sostituendo appunto alla x 0 qua e alla y 1 troveremo che il determinante di H in questo caso sarà uguale a meno 64 no ho sbagliato 0,1 ho sbagliato 0,1 0,1 quindi sarà migliore di 0 il punto B sarà un punto di sella difatti ecco qua B punto di sella facendo la stessa cosa con gli altri due punti vedremo che anche nel caso A verrà sempre un punto di sella mentre nel caso C vedremo che il determinante sarà maggiore di 0 ok la derivata seconda rispetto sempre ad x in questo caso è dov'è 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 è maggiore di 0 quindi C invece sarà un punto di minimo relativo passiamo ora al calcolo dell'ottimo vincolato che cos'è l'ottimo vincolato in una funzione ci può essere chiesto di calcolare un un punto di ottimo vincolato a una seconda funzione ok questo particolare metodo ne vedremo due l'ottimo vincolato col metodo della sostituzione e col metodo della circonferenza in questo caso il metodo della circonferenza ricordiamo che è applicabile solo nel caso in cui la seconda funzione quindi G X Y deve essere una circonferenza ok è applicabile solo in questo caso e non è altro che una semplificazione del metodo che vedremo successivamente l'ho messo prima perché in realtà è un po' più semplice e mi sembrava logico quindi metterlo metterlo prima comunque anche in questo caso ho diviso il procedimento in quattro punti anzitutto dobbiamo andare a calcolarci una funzione che viene definita la grangiana che adesso vedremo che cos'è successivamente dovremo calcolarne il gradiente quindi sappiamo già che cos'è il gradiente ma è l'insieme delle derivate e metterlo a sistema ponendolo uguale a zero essenzialmente come abbiamo fatto prima poi trovare i punti stazionari ed infine impostare la matrice siana orlata e calcolarle in determinante non preoccupatevi adesso vediamo punto per punto come procedere anzitutto ricordiamoci che noi partiamo da due funzioni perdono partiamo da due funzioni la funzione f di xy che ci viene data ci viene fornita dal quesito del problema e una funzione g di xy ok ricordiamo che g di xy deve essere per ipotesi una circonferenza altrimenti questo metodo non sarà applicabile ok comunque questa qua è una circonferenza perché abbiamo x al quadrato più questo termine in cui abbiamo contenuto y al quadrato meno due che sarà poi il il raggio al quadrato ok quindi procediamo con il nostro procedimento primo punto calcolare la funzione lagrangiana la funzione lagrangiana cos'è è una funzione calcolata in base ad x y e lambda che è questa lettera qua che io in realtà faccio molto male perché scrivo velocemente ma si indica così una trattino così e un trattino così questa è lambda questa invece è il simbolo della lagrangiana quindi essenzialmente non è altro che una l ok che adesso non riesco a farvi ad ogni modo come si ottiene si ottiene facendo f di x y quindi questa funzione qua meno lambda che moltiplica g di x y quindi non abbiamo altro che questa qua che è tutta la funzione f di x y meno lambda che moltiplica questa seconda funzione adesso cosa dobbiamo fare non dobbiamo fare altro che svolgere tutti i calcoli quindi moltiplicare dove c'è da moltiplicare e vedrete che come risultato otterremo questa lunghissima equazione ok ok detto ciò passiamo al secondo punto calcolarne il gradiente e metterlo a sistema ponendolo uguale a zero come facciamo? allora calcoliamo nel gradiente quindi essenzialmente deriviamo questa funzione qua che abbiamo ottenuto prima secondo lambda quindi tenendo tutto costante tranne lambda poi secondo x e infine secondo y quindi come abbiamo fatto anche in precedenza ed otterremo queste altre tre equazioni ok che dobbiamo porre uguali a zero ok una, due e tre queste qua sono le tre derivate prime della nostra della nostra funzione lagrangiana di questa funzione qua ok queste tre equazioni andranno prima poste tutte e tre uguale a zero ed infine dovremo metterle a sistema ok come ho indicato qua mettendone a sistema troveremo diversi punti quindi in questo caso sono tre punti tre punti punto a il punto b e il punto c questi qua saranno tre possibili punti di ottimo vincolato per proseguire dobbiamo passare al punto tre trovare i punti stazionari ok scusate i punti stazionari in realtà li abbiamo già trovati perché facendo questo sistema abbiamo trovato i punti stazionari che sono questi quattro a, b, c e d e queste sono le coordinate passiamo all'ultimo punto impostare la matrice siana orlata e calcolarne il determinante ora cos'è la matrice siana orlata la matrice siana orlata è una matrice ok come quella che abbiamo fatto in precedenza solo di ordine tre quindi tre righe e tre colonne in cui gli elementi contenuti sono questi che ho esplicitato ok questa prende il nome di matrice siana orlata e viene indicata essenzialmente come una h di matrice siana e una una l di lagrangiana come pedice ok ovviamente in base a lambda x e y il primo termine è zero poi abbiamo meno la derivata prima della funzione g di x rispetto ad x meno la derivata prima della funzione g di x rispetto rispetto a y e poi insomma una serie di equazioni che dobbiamo calcolarci queste possiamo calcolarle anche in autonomia perché abbiamo la derivata seconda della funzione rispetto ad y meno la lagrangiana che moltiplica la derivata seconda della funzione di x y due volte rispetto ad y una volta calcolati tutti questi fattori li andiamo ad inserire nella tabella che saranno dei numerini abbastanza piccoli in realtà non saranno molto lunghi io ho già provveduto alla sostituzione ed otterremo quindi questa questa matrice ok a questo punto dobbiamo calcolarci il determinante della matrice il determinante della matrice sarà calcolabile tramite le regole che vi ho spiegato nel primo macro argomento ok ed otterremo due possibili risultati un determinante maggiore di 0 o un determinante minore di 0 nel caso in cui il determinante sia maggiore di 0 abbiamo così trovato un punto di massimo relativo se invece y dovrà essere y scusate il determinante della funzione lagrangiana dovesse essere minore di 0 troveremo un punto di minimo relativo ok in questo caso io ho già svolto tutti i calcoli e troveremo che a e b sono punti di massimo relativo mentre c e d sono punti di minimo relativo ok passiamo ora all'ultimo metodo l'ottimo vincolato secondo il metodo della sostituzione questo è un metodo applicabile universalmente no ok non solo quando g di x y come abbiamo visto qua è una circonferenza ma in tutti gli altri casi quindi quando questo metodo non è applicabile vediamo come si come si fa bisogna anzitutto calcolare una funzione che prende il nome di h di y ok poi si studieranno le derivate di h di y ed infine si procederà alla ricerca dei massimi e dei minimi prendiamo ad esempio questa funzione qua f di x y ok e quest'altra funzione g di x y ok questa qua g di x y non è una circonferenza ok no in realtà si però in questo caso non ci interessa perché noi tanto stiamo vedendo un metodo che sia universalmente valido per il calcolo di per il calcolo degli ottimi vincolati come procediamo procediamo esplicitando una delle due variabili ok in questo caso ci conviene x perché x è elevato alla 1 y invece è elevato alla seconda a grado maggiore ed è più difficile da calcolare quindi procediamo a porre g di x y uguale a 0 portiamo di là i vari membri e ci calcoliamo e la esplicitiamo secondo x qua non ho fatto altro che esplicitare questa funzione rispetto ad x ok ora procediamo a calcolarci h di y h di y che cos'è è una funzione in cui dobbiamo sostituire ad x in questa funzione qua l'x che ci siamo calcolati qui ok quindi ad esempio abbiamo 2y ok 2y che moltiplica 2 per x x però abbiamo detto che è questa cosa qua quindi 2 per tutta questa questa cosa qua che ci siamo ricavati in precedenza meno y ok chiusa più 3y meno 4x meno 4 che moltiplica tutta questa cosa qua in questo modo otterremo una funzione che avrà come unica unica incognita y non più xy ok quindi stiamo andando a semplificarci i calcoli svolgiamo i calcoli otterremo questa questa equazione continuiamo a svolgere i calcoli moltiplichiamo dove c'è da moltiplicare semplifichiamo i termini uguali ed otterremo questa equazione qua 4y al cubo meno 6y al quadrato più 2 ora cosa dobbiamo fare ora dobbiamo studiare questa funzione come se stessimo applicando lo studio di funzione che abbiamo analizzato nel capitolo precedente a questa funzione ok quindi facciamo calcoliamo la derivata prima rispetto a y ovviamente che sarà 12y al quadrato meno 12y qua si può anche raggruppare un 12y che moltiplica y meno 1 e andiamo quindi a trovare due punti y uguale a 0 e y uguale a 1 come punti come punti stazionari ok facciamo lo stesso studio di funzione che abbiamo che abbiamo applicato nel capitolo precedente e troveremo che 0 è un punto di massimo mentre 1 è un punto di minimo ok quindi se y è uguale a 0 andiamo a sostituire g di x virgola 0 che è il valore che abbiamo trovato uguale a 0 troveremo che x sarà uguale a meno tre quarti ok per y uguale a 1 invece g di x 1 sarà uguale a 0 e verrà fuori come risultato x uguale ad un quarto ok una volta trovati questi due risultati andiamo a metterli insieme quindi come mi sono dimenticato di metterli non so per quale motivo y è uguale a 0 x è uguale a meno tre quarti tre quarti ok meno tre quarti 0 ah no ecco li ho messi qui sotto che sono questi qua meno tre quarti 0 e b invece è un quarto 1 ok questi punti qua andandoli a sostituire nuovamente nella funzione troveremo che saranno uguali a 0 e 2 e qui ne avremo trovato i nostri due punti di ottimo vincolato e qui ne avremo trovato